Ave Quiriti, ben ritrovati in un nuovo video, ci sono alcune novità dal fronte, andiamo subito nel settore di Kupiansk, qua c'è stato molto movimento nelle ultime ore, negli ultimi giorni, russi e ucraini si sono resi protagonisti di alcuni attacchi, proprio in questa sezione. Siamo nel fianco destro di Sinkivka, come potete vedere siamo nei campi sopra Petropavlivka, questo paese che sta veramente molto vicino a Kupiansk, ci sono degli attacchi da parte ucraina e degli attacchi da parte russa, ci sono alcuni video molto esplicativi appunto di questa ultima situazione. Video russo, siamo a est di Sinkivka, come potete vedere c'è una colonna, ci sono due unità corazzate ucraine, si tratta dalla didascalia, dalle scritte di un T-64 e di un BMP-2 ucraini, quindi un carro armato e un veicolo corazzato per l'affanteria, stanno avanzando sotto un fuoco di artiglieria russo, come potete vedere, procedono abbastanza spediti, c'è del fuoco, il carro armato ucraino abbandona la strada, cerca un attimino di defilarsi, il BMP ovviamente ha della fanteria. Il carro armato è stato colpito, come potete vedere, probabilmente da un drone, probabilmente. il carro armato si è fermato, evidentemente ha subito un colpo che lo ha fermato, infatti il personale abbandona il mezzo, come potete vedere, non so se siete riusciti a vedere, la qualità non è il massimo, però ecco, il BMP continua. E c'è dello sbarco, come potete vedere, c'è lo sbarco delle truppe ucraine. Qua c'è un'ennesima immagine, prima abbiamo visto appunto il drone che stava per bombardare le truppe ucraine fuori dal mezzo, qua c'è invece il carro armato, il T-64, che è stato neutralizzato. Video russo, qua siamo sempre a est di Sinkivka, ma un pochettino più vicini al paese. Queste sono posizioni ucraine, è una trincea posta vicino a quella che era una fila di alberi, ci sono alcuni fanti ucraini all'interno di questa posizione. I russi iniziano a prenderla di mira con l'artiglieria, vedete i tanti crateri, quindi ecco una zona, ecco questo è un drone kamikaze, come dicevo una zona piuttosto battuta. Altro drone kamikaze, come potete vedere hanno una certa portata e anche poi vengono fuori delle fiamme, ecco. Come potete vedere la posizione è stata veramente martoriata. Qua vediamo il personale che cerca di andarsene dalle trincee, evidentemente il personale si sta ritirando. Qua questo dovrebbe essere il personale russo, artiglieria che bombarda appunto la posizione, e questo è un mezzo russo che sta portando della fanteria per occupare appunto questa posizione. Dopo il bombardamento ecco i russi, come potete vedere, arrivano. Sono attacchi localizzati, sono gli attacchi che abbiamo visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È raro vedere attacchi a livello di compagnia, battaglione e via dicendo. Abbiamo visto alcune di queste azioni su Chasiviar, soprattutto da parte russa, e su Tonenke, Umansk e quelle parti là, più o meno. È sempre più raro vedere quel tipo di attacco. Probabile che ne vedremo nel futuro, però per ora ecco. La costante è questa. La tendenza è questa. Fare attacchi veramente a livello squadra, plotone. Due, tre, un mezzo. Soprattutto è la realtà di questa sezione del fronte, ho notato. Su Kupiansk c'è questo tipo di azione da ambo le parti. Abbiamo visto però che ci sono anche gli ucraini. Era da tanto tempo che non vedevamo in questa sezione gli ucraini fare uno sbarco di truppe, comunque fare un contattacco, cercare di riprendere delle posizioni. Li abbiamo visti, insomma. Quindi ecco, c'è attività da ambo le parti in questa parte del fronte. Ovviamente per i russi è importantissimo cercare di avvicinarsi a Kupiansk, cercare di prendere Kupiansk. Questa è la sezione del fronte più vicina a Kupiansk. Però non hanno per ora operato un'azione di quelle che ti fa dire, perfetto, vogliono prendere Kupiansk. Sembrano più mosse appunto per tenere impegnati i difensori. Stessa cosa per gli ucraini. Gli ucraini devono assolutamente difendere Kupiansk. Come potete vedere è un hub logistico molto importante, è un centro per la viabilità. È una cittadina di discrete dimensioni. Quindi ecco, per ambo gli schieramenti è un obiettivo veramente importante. Come potete vedere c'ha strade veramente che escono fuori da ogni parte. Andiamo poi molto più a sud, andiamo dalle parti di Donetsk. Siamo in special modo qua nella cittadina di Krasnogorivka, in direzione Kurakove. I russi, come potete vedere, hanno operato, ve li faccio vedere anche qua, dei piccoli guadagni territoriali qua nella parte centro-occidentale, più o meno, della cittadina di Krasnogorivka. Quindi i russi stanno procedendo frontalmente. Io avevo presupposto un attacco anche da questa parte di campi, però i russi stanno decidendo di proseguire centralmente, cercando di prendere tutte queste case basse. Abbiamo un video in particolare, abbiamo diverse immagini, ci sono bombardamenti, l'artiglieria è molto utilizzata da ambo gli schieramenti. Abbiamo le solite colonne corazzate di Krasnogorivka, ne abbiamo viste tante nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, da supporto, da sostegno all'azione offensiva della fanteria, però ecco, di fatto il momentum russo sta continuando in questo settore. Ricordiamo che Krasnogorivka è importante perché faciliterebbe l'avanzata verso occidente, verso Maximilianivka, ma soprattutto Kurakove. Kurakove è un obiettivo, è l'obiettivo importante in questa sezione del fronte. Krasnogorivka sarebbe un ulteriore sostegno, un'ulteriore base per procedere verso occidente. È vero però che qua, come potete vedere, c'è tutta questa fila di centri che sicuramente renderanno l'avanzata russa molto difficile. Ci sono dei corsi d'acqua, ci sono molti villaggi, sicuramente saranno utilizzati dagli ucraini per parare il colpo, per difendere, diciamo, il fianco settentrionale di Kurakove. Quindi è presumibile che i russi continueranno verso Maximilianivka, cercheranno di arrivarci dalla 0510, questa strada qua che arriva appunto a Kurakove, e sicuramente cercheranno di arrivarci anche da meridione, da sud. Non faranno la solita cosa che dico, non faranno una puntata, cercheranno di ingrossare appunto una direttrice offensiva, prendendo anche tutti questi campi qua. Quindi ecco, questa è la situazione, non ci sono altre novità, a dire il vero il fronte nella giornata di oggi e di ieri è stato piuttosto silente, vedremo se ci saranno altri aggiornamenti. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal vostro Davide.